Pur costretta a giocare l'intera ripresa con soli dieci uomini per l'espulsione del numero 4 Morini, la Roma, oggi maglia bianca, è uscita vittoriosa dal difficile campo del Verona. Nel primo tempo sostanzialmente equilibrato, nonostante una certa supremazia territoriale dei Veneti, una prima emozione si era avuta al ventitresimo, quando il terzino negrisolo colpiva la traversa della rete veronese. Al trentunesimo era Zaccarelli che coglieva a sua volta l'incrocio dei pali della porta romanista e riprendendo spediva sopra la traversa. Un'altra buona occasione per i padroni di casa veniva sciupata al trentottesimo da Busatta e al quarantaduesimo si verificava l'episodio dell'espulsione. Morini colpiva Zaccarelli a gioco fermo e il signor Torelli consultato i guardaline e inviava il mediano romanista negli spogliatoi. Nella ripresa con la Roma da una parte che vadava a condurre in porto il pareggio e il Verona dall'altra che pur attaccando in continuità non riusciva a rendersi veramente pericoloso, la gara sembrava ormai avviarsi allo 0-0, quando al trentesimo Orazzi nel più classico dei contropiede portava in vantaggio la Roma. Il Verona aveva la possibilità di riequilibrare il risultato al quarantunesimo quando per questo atterramento di Luppi l'arbitro decretava il rigore. Ma Conti, il secondo portiere della Roma entrato sei minuti prima per sostituire Ginulfi, infortunatosi intuiva il tiro angolato madevole di Maddè e bloccava in due tempi la palla consentendo alla sua squadra di concludere con un prezioso successo.